Il Museo dei Bretti e degli Enotri, di fatto un'eccellenza culturale di Cosenza, viene formalmente riconosciuto come tale dalla Regione Calabria e inserito nella rete delle eccellenze dei beni culturali regionali, a seguito di un avviso pubblico per lo sviluppo di attività imprenditoriali all'interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, finanziato dal POR 2007-2013. Da questo riconoscimento nasce la sinergia con la società Museion, in collaborazione con OmniArc di La Mezza Terme e la spin-off dell'Unical 3D Research, che punteranno a migliorare la fruibilità culturale della struttura tramite diverse innovazioni tecnologiche e i servizi di biglietteria, accoglienza e merchandising. Inoltre sarà offerto un servizio di caffetteria e piccola ristorazione. Una sinergia importante è quella fra le amministrazioni pubbliche e private che consentono a delle strutture pubbliche di rilevanza importante di aprirsi alla città, ai cittadini, alla fruizione di nuovi servizi. Il museo sarà dunque più ricco e la città non avrà che da guadagnarci in termini di turismo e marketing territoriale. Sebbene il museo abbia sviluppato una serie di iniziative e di attività nel corso di questi anni da quando è aperto, comunque abbiamo bisogno dell'apporto dei privati per poter migliorare quantitativamente e qualitativamente la nostra offerta.